Era diretto in Francia il pacco sospetto che la Guardia di Finanza ha trovato in un centro spedizioni dell'Interrand di Napoli contenente circa 7 kg di infiorescenze di canapa indiana confezionati in sacchetti di chelofan pronti per essere rivenduti al dettaglio sul mercato nero europeo Seguendo i dati a disposizione coordinati dalla procura di Napoli Nord i finanzieri di fratta maggiore sono giunti nella provincia di Benevento a casa di una persona che è stata denunciata all'autorità giudiziaria per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti al termine di una perquisizione domiciliare Complessivamente sono stati scoperti e sequestrati una piantagione composta da circa 600 arbusti di canapa indiana e quasi 60 kg di marijuana essiccata che se immessa sul mercato avrebbe fruttato ben 550.000 euro